L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato creato nel 2016, se non sbaglio. Da allora evidentemente non si è riusciti a far funzionare questo organismo. Gli ispettori del lavoro dicono che è difficile reperire tecnici sul mercato, che non ci sono e non fanno i bandi di concorso e vanno deserti, quindi c'è un altro problema. Per quanto riguarda l'immigrazione, se si emergerà che sono tutti immigrati regolari, condivido pienamente le parole del Presidente, se si emergerà che alcuni immigrati non erano regolari, credo che il farli stare clandestinamente nella nostra terra abbia provocato questo e forse se fossero stati espulsi o non fossero stati fatti sbarcare sarebbero salvi e vivi adesso. Quindi diciamo che là c'è pure un elemento... C'è colpa loro se sono morti? C'è colpa loro se sono morti? Non dovevano stare in Italia, se sono immigrati clandestini che vengono fatti lavorare, la colpa è di chi li ha fatti lavorare, la colpa è di chi li ha fatti entrare e la colpa è di chi non li ha espulsi. Quindi non è che possiamo essere contenti perché ci sono gli immigrati clandestini che vanno in giro per i cantieri, perché quello è un ulteriore problema da risolvere, non sono risorse preziose, sono risorse purtroppo che non dovrebbero stare in Italia. Quindi questa è un'altra questione. Per quanto riguarda i subappalti vorrevo ricordare, siccome ci sono tante polemiche in questi giorni, che la norma sugli appalti a cascata è stata approvata nel 2021 dal governo Draghi per chiudere una procedura di infrazione europea e credo che in questa fase, e fortunatamente il Presidente non l'ha fatto, mettersi a puntare il dito come purtroppo tanti stanno facendo in questi giorni, sia la cosa più sbagliata che ci possa essere. Invece bisogna interrogarsi sulle responsabilità purtroppo condivise che riguardano tantissimi soggetti e che mantengono questa situazione con questo tragico bilancio dei tre morti al giorno che purtroppo va avanti da vent'anni e non si riesce ad invertire la tendenza, a far cambiare. Questo credo sia il problema e credo che sia uno dei temi e dei punti su cui bisognerebbe unire le forze. Non ho il tempo per la replica, però Emiliano, se vuole un telegramma, perché vedo già Francesco Paolo Sisto dal quale arrivo subito dopo la pubblicità, prego Emiliano. Non puoi dire. No, io dico solo che anche voi fossero lavoratori clandestini, non si potrebbe certo addebitare loro alcunché, perché qualcuno li ha messi a lavorare, non li ha intercettati, quindi il disastro dello Stato italiano anche sulla questione del far rispettare le proprie leggi ingiuste comunque sarebbe un disastro. Quindi io considero invece necessari, visto lo spopolamento e la denatalità, i lavoratori che vengono da fuori, bisognerebbe assolutamente, ma per farli venire regolarmente bisogna avere delle leggi che aiutano i lavoratori regolari, non glielo impediscano. Grazie a Maria Maria Soltanino, grazie a Sandro Iacometti, Emiliano resta con noi ancora un attimo.